Ciao, sono Matteo e sono uno studente tutor dell'Università di Siena. Sono molte le ragioni per cui ho deciso di studiare qui, ma non te le rivelerò tutte, perché credo che la scelta del proprio percorso sia una questione personale e che quindi non ci siano regole fisse da seguire. Ci sono però azioni e strumenti utili per la progettazione del tuo futuro. Ad esempio, la scuola estiva di orientamento che l'Università di Siena organizza dal 23 al 27 agosto. Se non hai ancora le idee chiare e vuoi conoscere meglio il contenuto dei corsi, assistere a lezioni, entrare nei laboratori e conoscere da vicino il nostro Ateneo e la città, ti aspettiamo a Siena dal 23 al 27 agosto. Cinque giorni interessanti da condividere con docenti e studenti tutor e anche per scoprire la bellezza della nostra città campus e del nostro Ateneo. Sarà un'occasione di condivisione e di scambio con altri studenti come te per condividere paure, dubbi, incertezze, idee e speranze. Inoltre saremo noi studenti tutor ad accompagnarti per tutto il percorso, perché così potremmo darti dei consigli utili. Perché dovresti iscriverti alla scuola estiva di orientamento dell'Università di Siena? Eccoti almeno tre buoni motivi. Iniziare a definire il tuo percorso accademico e di formazione professionale, fare la tua prima esperienza di vita universitaria e vivere un'esperienza formativa e divertente allo stesso tempo, assieme ad altre ragazze e ragazzi della tua età. Tutte le informazioni su come iscriversi alla scuola estiva di orientamento sono sul portale Orientarsi. Potrai scegliere di partecipare con la formula in residenza, che ti consentirà di alloggiare nella bellissima residenza universitaria di Sperandie, oppure partecipare solo alle attività nelle strutture didattiche. Le iscrizioni scadono il 14 luglio e possono essere effettuate sul portale Orientarsi. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare l'ufficio Orientamento e Tutorato all'indirizzo orientamento-unisi.it. Speriamo di vederti presto a Siena. Ti aspettiamo per vivere assieme l'università.